Ciao ragazzi! Oggi parliamo di Vince Taylor, detto The White Storm, ovvero la tempesta silenziosa. Un'icona del bodybuilding degli anni 90, leggendario per aver detenuto, per un certo periodo, il record del massimo numero di vittorie come professionista IFBB, con 22 trionfi. Nonché per l'abilità nel posare, ricordiamo la famosa terminator routine da lui introdotta al Mister Olimpia 1991. Uscito dalla scuola di John Brown, Vince ha gareggiato fino ai 51 anni, aggiudicandosi ben 5 titoli di Mister Olimpia Master, un primato, e lasciando un'impronta indelebile nel mondo del bodybuilding. Ancora oggi, a 68 anni, si presenta in ottima forma, un esempio positivo del grande bodybuilding degli anni 90. Enjoy! Vince Taylor nasce il 25 agosto 1956 a Half the Grace, vicino a Baltimore, nel Maryland. Sin dai 12 anni rimane affascinato dai film di Ercole, e racconta che uno dei suoi sogni era quello di diventare il primo Ercole di colore. Sulle riviste di settore scopre poi campioni del calibro di Dave Draper, Larry Scott, ma soprattutto Robbie Robinson. E ricorda che da ragazzo scrisse una lettera a Robbie chiedendogli suggerimenti su come sviluppare un buon fisico. E Robinson gli rispose suggerendogli di allenare i gruppi muscolari grandi frequentemente e in modo pesante. Così Vince comincia ad allenarsi a casa con mezzi di fortuna, ma non è costante, presto alla vita quotidiana ha il sopravvento, e in breve dimentica il bodybuilding. Durante gli studi si dedica a sport più convenzionali, in particolare al basket e al football. Ricorda che allenava i polpacci e le braccia con particolare intensità con scopi prestazionali. I polpacci per migliorare la sua elevazione nel basket, che, pur essendo alto solo 1,72 m, gli permetteva di schiacciare. Le braccia perché giocando come quarterback nel football voleva essere in grado di effettuare lunghi lanci della palla. E la leggenda narra che sviluppò 40 cm di circonferenza di braccio e 45 cm di polpaccio, ancora prima di dedicarsi seriamente al bodybuilding. Nel 1974 si diploma e durante le vacanze va a trovare suo fratello, ai tempi militari a Berlino. Si innamora della Germania e decide di andare a viverci. Sarà proprio in Germania che Vince verrà contagiato dal virus del ferro. All'inizio degli anni 80 casualmente va a vedere una gara di bodybuilding e incontra John Brown, che in quell'occasione si esibiva. Essendo due americani in Germania, i due si trovano, hanno modo di parlare e John, notando il potenziale di Vince, gli suggerisce di dedicarsi al bodybuilding. Sarà proprio l'influenza di John, unito al suo successo con le donne, a spingere Vince a cominciare ad allenarsi seriamente. Da Brown, Vince apprenderà i rudimenti su allenamento e alimentazione, e l'importanza della presentazione. Cioè di portare sul palco una routine di pose in grado di coinvolgere il pubblico. La ricetta di John per diventare un bodybuilder di successo è semplice e chiara, basata su tre punti chiave. Eat big, train big, sleep big. Cioè mangia molto, allenati molto e riposati molto. E così Vince, che all'epoca pesava sui 70 kg per 1,72 m di statura, comincia ad allenarsi intensamente. Passa qualche settimana insieme a John a Los Angeles, dove incontra diversi campioni dell'epoca, da Charles Glass a Tony Persson. Poi prosegue gli allenamenti in una palestra in Germania. Nel 1983, a 27 anni, partecipa alla sua prima gara, il Mr. Berlino. Si prepara per tre mesi con una dieta a base di tonno e riso, e si definisce al massimo arrivando in gara sui 68 kg. Sebbene una serie di contrattempi lo facciano arrivare in ritardo sul palco, a gara già iniziata, costringendolo a gareggiare nei pesi massimi, a sorpresa Vince. È l'inizio di una lunga carriera piena di successi. Galvanizzato, Vince continua ad allenarsi con impegno, e il suo fisico reagisce rapidamente. Ma oltre le soddisfazioni, ci sono anche i contrattempi. Nel 1986 rischia di compromettere la sua carriera sportiva. Mentre sta facendo dei curl di riscaldamento prima di un'esibizione, pochi minuti prima di salire sul palco, si strappa al tendine del bicipite sinistro. Un incidente che potrebbe sancire la fine della sua carriera, allora agli inizi. Ma Vince non demorde, e dopo un'operazione chirurgica e mesi di fisioterapia, riesce a ripartire al meglio. E le braccia rimarranno sempre uno dei suoi punti di forza. Dal 1987 comincia a partecipare a gare importanti, aggiudicandosi il titolo di Mister America e EU nella categoria Medie Taglie. Nel 1988 la consacrazione. Vince i pesi medio-massimi e l'assoluto agli NBC Nationals e conquista la Pro Card IFPB. Dal 1989 comincia a gareggiare fra i professionisti, ottenendo un brillante terzo posto al Mister Olimpia e vincendo la Notte dei Campioni. Grande inizio per un novizio. Nel corso della sua lunga carriera, con un peso fra i 94 e i 104 kg, parteciperà a circa 70 competizioni professionistiche IFPB, vincendone ben 22. Un record. Ricordiamo le vittorie all'Arnold Classic e i numerosi Grand Prix, le sei partecipazioni al Mister Olimpia, dove vanta due terzi posti, e ben 5 titoli di Mister Olimpia Master, vinti fra il 1996 e il 2001. In realtà, l'ambizione di Vince era vincere dieci titoli come Mister Olimpia Master, per stabilire un record indelebile, ma, secondo il suo racconto, a un certo punto incontrò parecchie resistenze e ostilità politiche, culminate nel secondo posto ottenuto nel 2002. Un verdetto, a suo parere ingiusto, che lo fece allontanare dallo sport. Tornerà alle competizioni nel 2006, con un brillante terzo posto all'Australian Pro, che ripeterà l'anno seguente. Concluderà la carriera sportiva nel 2007, a 51 anni, con un decimo posto all'Arnold Classic. Sente ormai di essere fuori dal giro dei vincenti. A complicare le cose, subisce un infortunio alla schiena, che lo convince che è arrivato il momento di abbandonare le competizioni. Ritiratosi dalla scena agonistica, Vince ha continuato ad operare nel mondo del fitness, in veste di personal trainer e imprenditore. Lo ricordiamo come promotore del programma di allenamento Powerball 50 Smart Grip, un approccio per allenarsi ai cavi con pesi leggeri, basato su una speciale maniglia chiamata Powerball, che, a suo dire, permette di focalizzare meglio lo sforzo sulla contrazione muscolare, riducendo al contempo il rischio di infortuni. Ancora oggi, arrivato a 68 anni, Taylor si mantiene in ottima forma, ispirando legioni di ammiratori in tutto il mondo. In palestra, Vince Taylor non ha mai creduto nel sollevare pesi il più pesanti possibile. Invece, si è sempre concentrato sul lavorare i muscoli da diverse angolazioni, con un peso adeguato per stimolare la crescita, usando carichi che gli permettessero di sentire la contrazione muscolare, attraverso la connessione mente-muscolo. Crede che sia importante irrorare i muscoli di sangue, cercando di raggiungere il massimo pump, piuttosto che concentrarsi solo sul carico sollevato, e per lui questo approccio ha sempre funzionato molto bene. All'apice della sua carriera si allenava 6 giorni a settimana, due volte al giorno, seguendo una routine Push-Pull Legs, con la quale esercitava petto-spalle e tricipiti il giorno 1, gambe e addominali il giorno 2, schiena e bicipiti il giorno 3. Poi ripeteva il ciclo, così che ogni gruppo muscolare venisse sollecitato specificamente due volte a settimana, eseguendo 15 serie, suddivise in tre esercizi da 5 serie di 10-12 ripetizioni ciascuno. Sebbene riconoscesse l'efficacia di tecniche in intensità come super serie e drop set, nei suoi workout preferiva utilizzare serie singole. Svolgeva anche attività cardio regolarmente, ritenendola importante sia per il controllo del peso corporeo che la salute di cuore e polmoni, e si dedicava regolarmente a corse all'aperto su strade e sentieri. Anche sul piano alimentare Vince aveva un approccio molto personale, ricorda di non essere mai stato un grande mangiatore, si alimentava consumando solo tre pasti al giorno, a volte anche solo uno o due, con una dieta che definisce in stile Burger King, cioè a base di Coca Cola, Hamburger e Ketchup. Niente pane, poche patate, poco riso e poco o niente integratori. Raramente è salito fino a cinque pasti al giorno, ma in generale erano solo tre pasti e la Coca Cola non era Coca Zero, ma tradizionale. Una sua colazione tipo consisteva in uova, pancetta e ketchup, quindi un'alimentazione ad alte proteine, con un discreto contenuto di zuccheri dalla Coca Cola, ma un intake calorico complessivo abbastanza moderato, rispetto alla media degli altri atleti. Un approccio alimentare che può far sorridere molte persone, ma che, nel caso di Vince, il consentiva di raggiungere e mantenere la forma fisica che tutti conosciamo e per cui è diventato famoso, e visti i risultati, per lui funzionava. Riassumendo, Vince Taylor è stato uno degli atleti IFBB più vincenti di sempre, e detiene ancora oggi il record per il massimo numero di vittorie al Mr. Olympia Master, avendo conquistato il titolo per ben cinque volte. Popolare per l'incredibile sviluppo di braccia e polpacci, la linea armonica e simmetrica, Nel corso della sua lunga carriera, Vince si è trovato a confrontarsi sul palco con i migliori campioni di sempre, da Lee Honey ad Orion Yates, da Ronnie Coleman a Jay Cutler e tanti altri. Fedele al suo approccio istintivo all'allenamento e all'alimentazione, ha superato il test del tempo, riuscendo a mantenersi in ottima forma fino ad età avanzata, e si propone come un esempio per tutti. Se Vince Taylor, che non era né un grande sollevatore e neppure un grande mangiatore, ha potuto gareggiare fino a oltre i 50 anni, e ancora oggi alla soglia dei 70 anni si presenta in salute e in ottima forma, al contrario di tanti altri è scampioni, io qualche domanda me la farei. Ciao, alla prossima!